Non è partita bene la settimana per chi ha scelto di viaggiare col treno a raffica di ritardi sulla linea Tirano-Lecco-Milano. In mattinata, spiega Michele Fedeli, referente settore trasporti della Cisle di Sondrio, alcuni guasti che hanno interessato sia i convogli sia i passaggi a livello hanno determinato considerevoli ritardi fino a circa 30 minuti. Il primo di servizio alle 7.40 con la circolazione rallentata dal guasto a un passaggio a livello. Ha viaggiato con mezz'ora di ritardo il locale Tirano-Sondrio delle 7.24. Verso le 9.40 un nuovo imprevisto. Per un guasto momentaneo al sistema di chiusura delle porte di alcuni vagoni, il diretto Tirano-Milano delle 9.08 ha viaggiato con 26 minuti di ritardo. Di servizi anche nel pomeriggio il convoglio partito da Milano Centrale alle 13.20 diretto a Tirano è partito con 49 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente. Amaro il commento della Cisle di Sondrio, purtroppo dobbiamo constatare che negli ultimi tempi i disagi si sono manifestati con più frequenza rispetto ai primi mesi dell'anno. La fotografia del servizio ferroviario sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano nota la Cisle vede oggi in primo piano l'inadeguatezza assoluta del servizio caratterizzato da ritardi quotidiani, cancellazioni, carenze di bus sostitutivi, scarsa pulizia e sullo sfondo una serie di proclami e assicurazioni che ipotizzano un servizio prossimo a venire, fatto di nuovi e moderni treni, infrastrutture ferroviarie rinnovate e senza più ritardi ma addirittura con tempi di percorrenza più veloci di 20 minuti. La Cisle di Sondrio coglie con favore la proposta di Regione Lombardia di istituire un tavolo istituzionale che punta a migliorare la viabilità sulla Statale 36 ma allo stesso tempo ritiene che non possa essere trascurata la ferrovia. Auspichiamo e chiediamo, la richiesta della Cisle di Sondrio, un impegno istituzionale che provveda ad affrontare la questione nell'immediato con un piano industriale in grado di quantificare risorse, interventi e tempi di attuazione affinché ai pendoli valtenesi e valchievennaschi e semei turisti che vengono a visitare le nostre valli si è riconosciuto il diritto a una mobilità accettabile e dignitosa in tempi brevi e non in prossimità del 2026.